Mario! Grazie, grazie. Oh! Grande successo! Le novelle di novella. Eh, grande successo. Di novella bella. Allora, la settimana scorsa... Sì? Occhio, è qua. ...e tempo che fa ha avuto grande successo di ascolto e ne abbiamo parlato... Era la prima, ma non è che è sempre così, eh? No, no, eh, no. Abbiamo pubblicato i dati auditei. Sì. Ah, sì? Sì, sì. Allora, per quei 60 milioni di telespettatori che non sanno... No, 60 milioni. Che noi... Non ci sono 60 milioni di persone. 60 milioni di telespettatori? No. Che non sanno cosa sia l'auditei, diciamo, ora. Sì. Allora, abbiamo qui in carne e ossa i dati auditei. Carne e ossa, va bene. Allora. Carne e ossa. Allora. Che tempo che fa? Sì. Sì. Il 24 settembre, la trasmissione più vista in tutte le televisioni italiane è estera. Ma non è vero, ma non è così. Ma non è così, non può essere. TV accese, c'è tutto. Ma TV accese. TV accese, 49 milioni. Ma come? TV spente, 155 pochissime. TV portate a riparare, 1.800. Allora, uomini, 70% d'ascolto, con picchi del 96-1996. Ma non è vero, ma non è possibile. Donne, 71%, essere umani, 91%, essere disumani, 8%, bambini accompagnati, 45%, bambini sciolti, 74%, 700 sindaci, 50 carabinieri, 8888 critici, lettere in arrivo, nebbia in balbatano e complimenti. Ma grazie, ma grazie, ma grazie. I dati li abbiamo pubblicati, li abbiamo pubblicati. Allora, Arlanc, Arlanc. Arlanc è il paese del Trentino dove è stata eletta Miss Italia di quest'anno. Con 14 abitanti. E lei abita in Trentino, Caterina. In Alcaldice. Sono stato querelato. Dai 14 abitanti. Sì, lo sai che sono stato querelato? Perché? Per isticazione al furto. Per avere detto la settimana scorsa che visto che tutti gli abitanti erano qui a Milano, i ladri potevano andare a rubare. Certo, certo. E sono successo 14 furti. Sono stato anche accusato di diffamazione. Da chi? Dai ladri. Come? Perché in Italia i ladri, non possono essere chiamati ladri. Eh, certo. Quindi mi hanno accusato di diffamazione. In due volte dalla quale... Andiamo a sapere le anticipazioni di V. Come voi tu? I tagli Rai. I tagli della Rai. Ah, i tagli della Rai. Il cavallo di Viale Mazzini verrà sostituito con un pony di Viale. E' più trendy. Capodanno Rai 1. Capodanno Rai 1. Oh, vice direttore. Abbiamo il direttore. Allora, ti ricordi che si era deciso il conduttore? Sì. E gli ospiti? Amadeus. Amadeus e Renato Zero. Sì. Però non si era decisa la data. Ma come la data? Capodanno di Rai 1. Allora, si sono riuniti Rai 1, il direttore generale, il presidente della Rai, l'associazione consumatori e dopo quattro giorni di riunioni, in interrotte, mattina e sera, hanno deciso che si farà il 31 dicembre. Oh, vero, 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 si conforta una certezza. Notizia di Sanremo, sempre Rai 1. Sanremo, sì. Notizia dell'ultima ora. Perché Baglioni non ha ancora, cioè ha firmato, ma non si legge bene la firma. Ancora, non mi vale. Hanno chiesto a Michel Hunzgeier, Michel Hunziger, che ha risposto, io ci sto, io sarei, ci sto a condurre il festival, ma solo per la serata dei martedì, giovedì e venerdì. Come mai? Perché mercoledì e sabato sarà incinta. Lei sarà incinta che sei martedì. Sono tornata alla carica con Barbara D'Urso. Che ha detto? Lei avrebbe accettato di condurre Sanremo, però solo se chi viene eliminato dal festival viene eliminato fisicamente. No, non si può fare. Non si può fare. E se il festival lo vince, disperato, di Marco Masino. No, no, ma che non può, è una canzone già editata. In questo momento è Claudio Baglioni, il direttore dov'è. Claudio Baglioni. Rete 4. Sì. Un nuovo reality con vips e non vips, svips, svips. Cioè i non vips sono svips. Vip veramente importanti, snip senza nessuna importanza. Allora, nuovo reality a tappe, finalizzato al raccogliere pomodori. Si chiama Pachino Express. Da questo reality. Ultima notizia. Ultima notizia. Maurizio Costanzo, ritorna all'intervista. Il grande Maurizio Costanzo, lo scoop della prossima settimana è l'intervista in esclusiva a Gennaro Pastaiuolo, capo camorra napoletano degli anni 90 e 100. Come 90 e 100? 2000. Ancora ricercato. Maurizio Costanzo l'ha pregato di intervistarlo di spalle. Ma il grande boss si è rifiutato. Ha detto Mi me fassi intervistate, fass, devis, non tengo paura. Ma che lingua parla? Non è napoletano. Ma bene, scusate. Camorra napoletano. Come parla? Anche i vertici di Canale 5 vorrebbero intervistarlo di spalle. Per maggiore precauzione. Niente da fare. Non vuole. A questo punto, Maurizio Costanzo ha deciso che si metterà lui di spalle. Ultima notizia su Novella... Novella, Novella, Nino!